Buongiorno, un'informazione di oggi lunedì 22 settembre 2014 di Telemerito e Teleboa Marina. Iniziamo con la politica. Paolo Ferrara, candidato a sindaco di Reggio Calabria, lo ha annunciato ieri mattina presso la sede di Liberi di Ricominciare, dove si è svolta la conferenza stampa di diritto per la comunicazione ufficiale della candidatura a sindaco della città. Giovane anche lui, 37 anni appena compiuti, docente di chimica agraria, sfiderà il candidato di centrosinistro nella corsa alla poltrona di sindaco della città di Reggio Calabria. Il professor Ferrara, conosciutissimo nel territorio del comune di Reggio, come persona sensibile e attenta alle problematiche sociali, nonché a quelle ambientali, ha un'ottima reputazione, stimatissimo sia dai giovani sia dai meno giovani e anche dagli anziani, è sempre stato vicino con particolare interesse ai disoccupati, ai meno abbienti e ai diversamente abili. Paolo Ferrara ha sempre dimostrato un grande attaccamento per la sua terra e grande rispetto per le persone. La sua decisione di candidarsi a sindaco della città è stata acclamata senza alcuna riserva da tutti i componenti dell'Associazione Liberi di Ricominciare e anche da una consistente fazione di elettorato che vede in Ferrara la persona giusta per ridare ai reggini e la gioia di vivere la dignità in una città che fu un tempo fiore all'occhiello del Mediterraneo. Paolo Ferrara in questa sfida contro il candidato del centrosinistra, Giuseppe Falcomatà, sarà supportato da una larga coalizione formata al momento da cinque liste, Movimento Europeo Diversamente Abili, Movimento Autonomo Alternativo, Unione Democratica Consumatori e Pensionati, Cittadinanza Mediterranea e Ciliegina sulla Torta la Democrazia Cristiana che con l'amministrativa di Reggio Calabria si ripropone come la forza che ha fatto grande l'Italia. L'assessore ai trasporti della Regione Luigi Fedele convoca per oggi un incontro sulle vertenze ATAM l'USB. Dopo il riuscito sciopero dei giorni scorsi l'assessore regionale ai trasporti onorevole Fedele ha convocato l'unione sindacale di base e oggi 22 settembre incontrerà una delegazione presso la sede del Consiglio regionale per discutere della situazione della municipalizzata ATAM di Reggio Calabria. Nella riunione di oggi scrive l'USB i lavoratori e le lavoratrici dell'ATAM potranno finalmente confrontarsi attraverso la delegazione dell'USB con la parte istituzionale per esprimere tutto il loro disagio sui criteri gestionali che hanno portato l'azienda al fallimento. Per poter discutere del grave attentato ai loro diritti a seguito la sottoscrizione del piano di rientro che ha previsto il contratto di solidarietà e quindi il taglio del salario di primo livello nella misura del 9% e del 25% del salario aziendale per un totale complessivo che mediamente vale oltre 170 Euro per ogni singolo lavoratore. Per capire quale sia la prospettiva aziendale in relazione alle difficoltà economiche delle azioni che la Regione Calabria dovrà porre in essere per garantire la soluzione della crisi. Nel corso dell'incontro verrà sottoposta all'assessore onorevole Fedele anche la questione dei lavoratori dimenticati della Mediterranea Bus S.p.a. dove oramai non si percepisce più salario dal lontano mese di luglio nonostante gli impegni assunti in sede regionale e più in generale la questione del trasporto pubblico in Calabria. La cronaca, i finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato 12.000 capi di abbigliamento recanti, marche contraffatte. I finanzieri hanno posto sotto sequestro anche un laboratorio clandestino di confezionamento ed etichettatura di capi di abbigliamento che riproduceva le più note griffe italiane e straniere ma anche maglie, borse, giubbotti, camice, cinture e occhiali. Se immessa sul mercato la merce avrebbe affruttato oltre 200.000 Euro. Si è svolta ieri la prima delle due giornate organizzate da Libera l'Associazione contro le mafie. Dal titolo è un bene comune vivere liberamente. L'altra giornata si svolgerà oggi nella Villa Comunale di Merido Portosalvo a partire dalle ore 18.30. Vediamo intanto il servizio fatto da Francesca Martino. La Villa Comunale di Merido Portosalvo ieri 21 settembre è stata protagonista mettendo in prima linea la legalità. Dopo un intenso momento di aggregazione e convialità con i bambini alle ore 19 inizia il dibattito in cui l'Associazione Libera contro le mafie in collaborazione con Associazione Culturale Fossatesi nel Mondo, Associazione Mondoverde Club, Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, Associazione Propentidattilo, Azione Cattolica Masella Montebello, Cooperativa Centro Giovanile Donitolo Calabro, CSI Reggio Calabria, Gruppo Scout a Gesci Saline Ioniche hanno manifestato la loro volontà a dire insieme un no secco ai movimenti illeciti e privi di limpidezza. Il dibattito è stato moderato dalla giornalista Rosalia Salvatore e apre la tavola rotonda Francesco Spanò, referente di Libera di Reggio Calabria, che sottolinea il senso di questa sera vuole essere un momento di comunità e coesione, bisogna fare rete insieme, questo è il primo passo per sconfiggere il male che sta martoriando la nostra terra. Il tema di questa giornata è stata dedicata ai beni comuni in cui sono intervenuti il giornalista e autore del libro Terra Venduta, Claudio Cordova, dove ha espresso a chiare lettere la risolutezza e impegno di riappropriarsi centimetro dopo centimetro degli spazi che la mafia gradualmente uccide. Segue l'intervento di Mauro Pasquale, direttore del Museo dello Strumento Musicale, dove sottolinea che la cultura e l'arte non piacciono alle organizzazioni criminali, la infastidiscono, loro vogliono che la gente non sappia. Nell'intervento è palese il pensiero che tutti gli aspetti culturali sfidano chi vuole distruggere la libertà di espressione e dopo l'incendio al museo avvenuto il 4 novembre del 2013 evviva più che mai la voglia di andare avanti nella lotta a rivoluzionare il sistema. Fondamentale in questo caso è il sostegno pubblico. Pensiero abbracciato anche dalla Presidente dell'Associazione Mondo Verde Club, Aurelia Sansotta, che ha ribadito una maggiore sensibilizzazione al tema dell'ambiente da parte delle cariche pubbliche. Oggi, 22 settembre, seguirà la seconda giornata che inizierà alle ore 18 e 30, in cui avrò luogo una riflessione sui beni comuni, facendo riferimento agli spazi pubblici, giustizia e legalità, dove interverrà il dottor Antonio Giannelli, Commissione straordinaria Merito Portosalvo e Libera Calabria. Alle ore 20 inizierà Immagina Mondo, le bellezze di Merito, dove sarà protagonista l'associazione piccola opera Papa Giovanni con i ragazzi della comunità rom. Andrà sabato in scena al Cineteatro Don Bosco la commedia Geronsia di Maria Pia Battaglia. Lo spettacolo è stato realizzato dalle ex salesiane di Bova Marina e lo potrete poi vedere nei prossimi giorni sui nostri canali. Vediamo il servizio di Silvio Cacciatore. Vanno in scena al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina le ex allieve salesiane, oggi nonne e madri, cresciute sotto l'ombra di Don Bosco nell'opera voluta e fondata dal suo successore, il beato Michele Rua, nel 1898. La commedia Geronsia è un testo semplice ma dagli importanti spunti di riflessione, una sottile ma non troppo ironia tipica delle commedie dell'autrice di fama nazionale ma dalle origini bovesi, Maria Pia Battaglia. La bellissima e modernissima sala del Cineteatro Don Bosco, una vera e propria oasi nel deserto culturale, strapiena fino all'ultimo posto con un pubblico caldo ed attento, ha saputo apprezzare l'umiltà e la simpatia tutta al femminile, magistralmente diretta dall'unico uomo, il regista Totò Briguglio. Morale della favola? Le ex allieve salesiane hanno stupito tutti, dando l'esempio soprattutto ai più giovani, di quanto sia importante stare insieme nell'amore nei confronti di quei luoghi da difendere sempre e comunque nel tempo, per tramandare alle nuove generazioni la semplicissima voglia di prodigarsi per mantenere vivo e attivo il bene comune, quali sono gli ambienti dell'oratorio salesiano. Luoghi che hanno educato alla vita intere generazioni e che fino a non molto tempo fa fungevano da unico collante sociale dell'intera comunità. E prima della commedia Geronsia abbiamo intervistato dietro le quinte il regista dello spettacolo Totò Briguglio. Ascoltiamolo. Siamo in compagnia di Totò Briguglio, regista della commedia Geronsia di Maria Pia Battaglia, una delle 13 commedie di Maria Pia Battaglia con la quale ha avuto l'onore di lavorare nella compagnia tetra della clessidra, quei simpatici vent'anni fa. Com'è stata questa esperienza di regia Totò? Ma è stata un'esperienza bellissima, specialmente questa ultima, perché ho visto che ci sono delle persone ancora che si vogliono mettere in gioco, nonostante l'età, non si dovrebbe dire, però si vede insomma. Magari ci fossero altre persone che vogliono fare questo lavoro, perché è un lavoro meraviglioso. Il teatro è terapia veramente, quindi lo auguro a tutti. Speriamo che si avvicini qualcuno. Un suggerimento per utilizzare al meglio questa struttura bellissima che il teatro Don Bosco dei Salesiani ha distrutturato meno di dieci anni fa? Qua si dovrebbero fare delle rassegne meravigliose, ma rassegne e ogni mese si potrebbe fare. Io per adesso lavoro, faccio il registro della compagnia Palcosceno con 91 di Merito Portosalvo e eravamo intenzionati a fare non una rassegna, ma un mese in teatro chiamata, ogni mese, perché abbiamo tutte le commedie di Maria Pia e Battaglia che noi abbiamo fatto, quindi siamo in grado di poterlo fare. Vediamo se il tempo ci darà ragione. Lo sport La Regina prosegue la preparazione in vista della gara di mercoledì prossimo al Granillo contro il Barletta. Per la squadra di Cozza e del neopresidente Foti, tornato al posto di comando, l'occasione per cancellare le ultime due sconfitte contro Messina e Lecce. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata. Grazie per l'ascolto.